Ciao, sono Enrica Bardetti. Per donne che reggono le donne, racconto la storia di una donna che durante i suoi 69 anni di vita ha segnato con le sue gesta approfondamente il suo tempo, lasciando dietro di sé numerose testimonianze e diversi pettegolezzi. Matilde di Canossa nasce nel 1046 e muore nel 1115. La maggior parte delle notizie storiche che la riguardano sono raccolte nel poema Vita Matildis dell'abate Benedettino Donizzone, che la descrive come una donna molto pia, ma anche combattiva e fiera. Proprio intorno a queste due caratteristiche del suo carattere si gioca tutta la vita di Matilde. Se avesse potuto scegliere, la sua fervida fede l'avrebbe senz'altro portata in convento, ma l'assassinio del padre e la prematura morte del fratello cambiarono il suo destino. La giovane donna si ritrovò infatti ad amministrare un territorio vastissimo che comprendeva la Lombardia, la Romagna, l'Emilia e la Toscana e lo fece con forza e fermezza, tanto da essere definita dallo storico francese Jacques Le Goeuf un'antesignana del femminismo. Nel corso degli anni diventò una dei più potenti feudatari a sostegno del papato nella lotta per le investiture, non limitandosi ad esercitare il controllo dei suoi possedimenti nelle stanze del potere, ma all'occorrenza scendendo a cavallo in battaglia al fianco dei suoi uomini. L'episodio che più l'ha resa famosa risale al 1073, quando furono eletti contemporaneamente il nuovo papa Gregorio VII e il nuovo imperatore Enrico IV. A partire da questa data e fino al 1111 Matilde ebbe un ruolo determinante nelle lotte tra potere papale e potere imperiale e fu proprio in questo periodo che presero piede i maggiori pettegolezzi sul suo conto. Nonostante l'imperatore fosse suo cugino, Matilde si schierò senza indugi a fianco del papa e nel 1077 lo ospitò presso il castello di Canossa sull'Apennino Reggiano, alimentando le licerie di una sua relazione con il papa. Le incomprensioni tra quest'ultimo e l'imperatore sembravano insanabili e chissà per quanto tempo sarebbero andate avanti se Matilde non si fosse messa in mezzo. È infatti seguendo i suoi consigli che Enrico IV si reca Canossa per sottomettersi alla pubblica penitenza. Per ottenere il perdone papale è costretto ad attendere davanti all'ingresso del castello per tre giorni e per tre notti, inginocchiato col capo cosparso di cenere. L'atto di pendimento ha dato origine al famoso detto andare a Canossa. Tra le numerose leggende legate al nome della granduchessa Matilde, che ricevette dall'imperatore Enrico V anche la nomina di vicari imperiali in Italia, c'è quella delle cento chiese. Si racconta infatti che Matilde fosse così religiosa da desiderare ardentemente di celebrare la messa e dal momento che aveva sempre servito il signore al pari di un sacerdote e riteneva di averne tutto il diritto, chiese a Papa Gregorio VII di poterlo fare. Il Papa, esasperato dalla sua insistenza e determinazione, per aggirare l'ostacolo acconsentì ma ad un patto. Matilde avrebbe potuto celebrare la messa solo dopo aver fatto costruire cento chiese e cento spizzi per poveri. Lei, per nulla intimorita, si dedicò al progetto con grande impegno, ma riuscì a costruire ne solo 99 di chiese. Qualcuno dice che morì prima di finire la centesima chiesa e così vede sfumare il suo sogno. Qualcun altro invece sostiene che prima di morire non resistette alla tentazione. Approfittando dell'assenza del sacerdote vestita con tutti i paramenti, Matilde celebrò la santa messa nella pieve di sasso di neviano degli arduini da lei edificata. Altre voci invece riportano che Matilde riuscì a costruire la centesima chiesa a febbio proprio di fronte al monte Cusna con l'aiuto del diavolo. Ma proprio mentre stava per ufficiare la messa fu interrotta dall'abate Giovanni di Marola che, su invito del papa, la invitò ad abbandonare definitivamente il suo desiderio, pena la scomunica. La granduchessa allora in predallira ordinò al diavolo di distruggere tutto. Si dice che il terribile crollo abbia provocato un piccolo terremoto e ora al posto della chiesa si erge un altro sperone di roccia che prende il nome di Monte Contessa. La leggenda racconta che nelle notti di luna piena è possibile scorgere l'ombra di Matilde che, delusa e ferita nel suo ultimo sogno, si allontana a cavallo. Tra le cento chiese attribuite a Matilde di Canossa troviamo il monastero di San Sisto a Piacenza, la pieve di San Giacomo a Cremona, il monastero di San Paolo a Parma e la cattedrale di Bologna dedicata a San Pietro. Le spoglie mortali della granduchessa Matilde riposano, secondo il desiderio di papa Urbano VIII, dentro la Basilica di San Pietro sotto una grande tomba di marmo disegnata dal maestro del barocco Gian Lorenzo Bernini. Grazie a tutti.